fino nel luogo che è stato preparato per accoglierlo stabilmente, d'ora in poi, come patrono dei nostri studenti e di ogni pellegrino. Presentiamo le nostre personali intenzioni e preghiamo gli uni per gli altri con le parole che troviamo sull'immaginetta che è stata distribuita. O Dio, nostro Padre, grazie per averci dato a Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per il fatto colosario, un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto ai poveri che gli ha amato e soccorso. Anche a me concedi, per sua intercessione, la grazia di cui ho bisogno. E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Mentre il Vescovo incensa la reliquia, come incenso salga la nostra preghiera. Le intenzioni che abbiamo nel cuore. Preghiamo. O Dio, che nella vita del Beato Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo hai reso esempio per i giovani, testimone di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Per Cristo, nostro Signore. Scambiamoci il dono della pace.